Si è presentato ieri alla stampa il nuovo comandante della Guardia di Finanza Danilo Petrucelli. 50 anni, originario della provincia di Lecce, Petrucelli è stato comandante del nucleo di polizia tributaria di Torino, capo della centrale operativa del comando generale e comandante provinciale a Parma. Negli ultimi tre anni ha ricoperto l'incarico di capo ufficio addestramento e studi della scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila. L'impressione è più che positiva perché c'è un clima ideale per lavorare e fare bene. Sono convinto che in una realtà così importante come la città di Salerno, con un porto così impegnato nei movimenti di entrata e uscita, con realtà tipo il polo universitario, ci sono tante realtà di un'economia vivace, votata al turismo con tante iniziative in tal senso e sono convinto che è necessario un intervento della Guardia di Finanza, con la sua funzione di polizia economico e finanziaria, quindi di un contrasto dell'evasione sostanziale, del contrasto allo sperpero del denaro pubblico, dell'aggressione della criminalità organizzata, soprattutto sul versante degli arricchimenti illeciti. Quindi contrastare i fenomeni di riciclaggio, adesso dell'autoriciclaggio, anche avvalendosi di tutte le banche dati ormai nella disponibilità del corpo. Soprattutto penso alla possibilità di trarre input informativi dalle segnalazioni di operazioni sospette, che ormai provengono in maniera sempre più copiosa dagli intermediari finanziari e delle categorie dei professionisti. Comandante, lei sei insediato da pochissimi giorni, anche il prefetto è di recente nomina, insomma c'è la possibilità di un discorso interforze che è fondamentale per il controllo sinergico del territorio, a Salerno città ma anche nella vasta provincia. Sì, le indicazioni di sua eccellenza e il prefetto russo sono esattamente in questa direzione, di coordinare al meglio il lavoro di tutte le forze di polizia, in sinergia anche con la polizia locale, per realizzare un intervento coeso, per contrastare quelle forme di legalità da quelle di maggiore evidenza a quelle più inquietanti, più sofisticate. Al di là delle specificità di ogni corpo c'è già qualche priorità che avete individuato nell'ambito di questa collaborazione interforze? Tanto c'è l'evidenza di contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione, soprattutto in questo periodo di grande afflusso di turisti, soprattutto per migliorare l'immagine della città e il decoro nella presentazione del biglietto da visita ai tanti turisti stranieri che affollano le nostre località turistiche.